ma che cosa è successo? che è successo? che è successo? sono caduti dei voti? sono caduti i voti? i voti erano che cosa è successo? si è fatto male? non l'ho visto l'ho capito scusate ma che cosa è successo? mi stai dicendo che l'hanno male di subito in ruota? non lo faccio forse sono tutti strani non lo faccio non lo faccio spostatevi indietro forza spostatevi indietro ma quanti sono? ma che si sono fatte? il primo questo si è fatto male la mano è che assai assai vai odin odin ma che si è successo? è quella è quella che non ma Grazie a tutti.